Alla 20 gol di Tia Verona fa subito in vantaggio il Chievo con il sinistro di Meggiorini sporcato dal petto di Gentiletti, dodicesimo minuto, lattio sotto dopo aver sciupato un paio di enormi occasioni alla mezz'ora il magic moment di Riccardo Meggiorini prosegue con un assist meraviglioso contro Valton Itacco per la testa di Paloschi che fa 2 a 0 Il Chievo mette le mani sui tre punti con la punizione di Walter Birsa non contenuta da Etrit Berisha il 45esimo e 3 a 0 con gli stessi marcatori che avevano risolto per il Chievo la gara di Empoli Nel secondo tempo a rotonda il punteggio il Chievo attenti a quel 3 Meggiorini di testa, Birsa per l'assist, Paloschi per la conclusione Poker Chievo, lattio al tappeto 4 a 0, Chievo a punteggio pieno